Boh, nuovo trailer di leggende Pokémon Arceus Vediamo però, cioè a buttarceli così fuori non va bene Scoperto un misterioso video di Hisui Ok Non sono tratte dal gioco Peccato Ok Wow, è vero È vero Oso Meraviglioso forse intendeva Posso Snorant Snorant Ok Ok Beh Ma aspetta Ora ci sto arrivando ora Ci sto arrivando ora È fuori di testa sta cosa Un nuovo Pokémon È rossa e ondeggia Ok Si vede qualcosa Che Pokémon è Ok Ok A parte il fatto che così rovinato non ha senso E mo Ci arrivo Ci sono arrivato tardi ma ok Finisce Finisce così No Un nuovo Pokémon sicuramente Pelliccia bianca E punta della coda E punta della coda rossa Con occhi bianchi e gialli e tondeggianti Allora È particolare sta cosa Non ti fanno proprio capire che cosa è Cos'è però che sono arrivato a capire tardi Il fatto che è un video Un filmato Nella regione di Hisui Dove non dovrebbero esistere certe cose Come fa a esistere un filmato in un'epoca antica Quando neanche la fotografia esisteva A malapena esisteva la fotografia certo Nel 1825 hanno scattato la prima fotografia Quindi Diciamo che al 1850 Già si iniziavano ad avere Le prime macchine fotografiche decenti Ma ragazzi Un filmato Non esiste proprio Sto cercando di carpire qualche frame Perché mi è sembrato di vedere Ecco No proprio Si si vede qualcosina ma La compressione ovviamente È fatta apposta qui È fatta apposta per non farti capire nulla Proprio è fatto doc Per non farti capire il nuovo pokemon Però ragazzi Un filmato Nella regione di Hisui È fuori di testa sta cosa Però Vuoi presentarmi un nuovo pokemon? Ok Va benissimo col filmato Però Fammici capire qualcosa Allora Qui vediamo Una La terra Probabilmente È neve Neanche troppo bene Si sente camminare Probabilmente È il pokemon selvatico Che lo ha attaccato Un pokemon che cambia forma Tipo Morpeco Che un secondo prima è buono Un secondo dopo Volta faccia Ti sfascerebbe il sedere Non lo so L'unica cosa che Posso dire con certezza È che Probabilmente È il tizio Che ha perso L'archeus phone Anche se Noi non lo troviamo Sulle nevi Da quello che si è visto Nelle immagini Anzi Proprio Il sito ufficiale ci dice A inizio Il gioco dell'avventura Receverai l'archeus phone Ok Magari scopriremo Ovviamente Nuove cose Lì Ma Che sia un arcanine? Una nuova forma Di gleli Però fuoco Con Coda Fiammeggiante Non ha senso Non ha senso Non ha senso Froslass Però sulla neve È sul monte corona sicuramente Neve Pokémon Rosso Pelliccia 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 bianca E coda Rossa E Sneasel WeWild Isui Potrebbe essere Il nuovo Il pochiamo scalatore Che tra l'altro Ancora non abbiamo visto Nei trailer C'era quel pochiamo scalatore Nelle scan Che sono trapelate Ma non è mai stato fatto vedere Questo Scalatore Ragazzi Dobbiamo aspettare Un'altra Due settimane Almeno Sì spero Una settimana massimo Perché Davvero abbiamo bisogno Di informazioni Sicuramente Verrà rivelato Qualcos'altro Non si hanno Conferme A questo punto Perché il trailer Non si vede nulla Si vedono giusto Gli snorant Renderizzati Alla bene e meglio Perché ovviamente Non Ecco neanche si vedono Tanto bene Perché beh Non serve renderizzarli Proprio al meglio Del meglio Però Vabbè Almeno ci fanno capire Che qualcosa Non quadra Che poi il corpo Del tizio Sia stato Trasportato Dal Pokémon Che lo ha attaccato Lo sta trasportando Nella sua caverna Per mangiarlo Chi è questo tizio Bellocchio Perché Bellocchio Viaggia nelle dimensioni Viaggia nel tempo Viaggia nello spazio Potrebbe essere arrivato Nella regione di Isui Nel passato Appunto Isui è sinno del passato Chissà Ragazzi C'è davvero Grande attesa Ora per sapere Che cavolo sta succedendo Aspettiamo Aspettiamo Comalgaspare